Non peserà sulle tasche delle famiglie l'aumento del costo pagato per il servizio di mensa scolastica riconosciuto alla società fidataria del servizio. A Cittadella un pasto a scuola è passato da 5,25 euro a 5,61 con un incremento di quasi il 7 per cento. Un riconoscimento automatico precisa l'amministrazione comunale della città murata trattandosi di adeguamento previsto dal capitolato e stabilito dall'Istat. Nessun costo aggiuntivo sarà chiesto alle famiglie. Il comune è infatti deciso di stanziare 50.000 euro per coprire l'aumento previsto per l'anno scolastico corrente.